Compostaggio di qualità, economia circolare, maggiore efficienza della gestione della raccolta differenziata. Queste sono solo alcune delle ricette emesse nel corso del convegno rifiuti zero da scarto a risorse organizzato a Manfredonia dal Movimento 5 Stelle, l'ambiente e la salute ed comunità. Uno sviluppo sostenibile passa attraverso le buone pratiche, un appuntamento che si è voluto tradurre in un momento partecipativo per creare una piattaforma operativa di suggerimenti per le istituzioni, ha detto Francesca Troiano, deputata e promotrice dell'evento. Il consigliere regionale Antonio Trevisi ha sottolineato il ruolo della sostenibilità ambientale in campo regionale. Siamo vicini a diventare una regione desertificata, ha detto, precisando come il rifiuto organico sia una parte molto importante per l'ambiente. L'obiettivo è togliere le mani dei rifiuti dei privati e metterli in mani pubbliche, ha aggiunto. Il naturalista Maurizio Marrese ha parlato dell'abitat e in particolare della pianta marina cimodocea nodosa che sovente si spiaggia sulle coste di Manfredonia come rifiuto speciale che potrebbe invece essere riusata anche come compost o come isolante di biodilizia. La senatrice Patti Labbate ha focalizzato la sua attenzione sul concetto di economia circolare, cioè su quel percorso previsto dalla natura in cui non esiste rifiuto e questo è infatti il segreto di una politica di rifiuti zero. Raimondo Innamorato, sindaco di Unicattaro, ha spiegato come si è riuscito ad avviare un percorso virtuoso di gestione dei rifiuti con la riduzione conseguente dell'Atari e con politica di sostegno per le famiglie più indigenti. Tutto questo poi si è delineato in un focus speciale su Manfredonia, augurando che l'esempio del sindaco di Unicattaro faccia capire a tutti la necessità di amministratori seri capaci e che diano priorità agli interessi della collettività, ha detto il consigliere comunale sipuntino Massimiliano Ritucci, facendo riferimento all'attuale governo della città. Per la consigliera regionale Rosa Barone, in provincia di Foggia, il comune di Isole Tremiti ha fatto una delibera contro le plastiche e un esempio per tutti. Bisogna invogliare a non usare la plastica. tra i presenti anche il deputato Giorgio Lovecchio.